Oggi sbucciamo 10 kg di mele per fare la marmellata, mele golden, mele di produzione propria delle nostre piante. Prendiamo la mela, la posizioniamo nell'apposito macchina e iniziamo a girare. Prendiamo la buccia, la togliamo, riposizioniamo la leva giù, tiriamo fuori la mela, leviamo il dorso. Prendiamo l'altra mela e facciamo lo stesso procedimento. Che bello, una collana di bucce. Tiriamo fuori la mela. Prendiamo... E dividiamo la mela a metà. Questo lo dobbiamo fare per 10 kg di mele. Come vedete il procedimento è molto rapido. Spero che vi sia piaciuto il nostro procedimento. Il video è finito. Grazie.